Visto che l'ha chiamato in causa Gozzi. Ma Gozzi è uno straordinario incantatore di serpenti. Sta raccontando quello che forse succederà in un'Europa diversa e dimentica di dire che il suo amico Macron, quello di cui lui cerca di essere l'emule italiano, è colui che chiude le frontiere, è colui che picchia le donne incinta, è colui che taglia le sue scarpe ai minori, è colui che spinge i minori migranti. Quindi questo è il signor Dottor Gekile Misterai. Cioè è solidale sulla pelle degli italiani e in casa degli italiani. E a casa sua è un aguzzino nazista. E questo, voglio dire, Gozzi finge di dimenticarlo. A guzino nazista fare attenzione a parlare di nazismo in Europa oggi fare attenzione. Certamente il trattamento che il tuo amico Macron riserva a casa sua è diverso da quello che chiedono gli italiani. Guarderei all'Ungheria e fare attenzione. E Gozzi, di me parlava di quote, è importante collegare le quote al lavoro. Allora vi ricordiamo che con il governo PD sono state azzerate nel decreto flussi la possibilità di far entrare immigrati collegati al lavoro perché avevamo immigrati clandestini. Perché la nazione italiana è l'unica che ha finanziato la sua invasione, grazie al PD, azzerando le quote legate al lavoro. Vogliamo, e termino, vogliamo, e questo non è colpa dell'economia italiana che si regge sul nero. Io gli voglio dire, signor Fermi, lei è stato un ospite gradevolissimo. Ve lo faccio dire da un uomo che si alza tutte le mattine, fa l'avvocato e paga il 56% di pressione fiscale. L'economia italiana, non è che perché l'economia italiana si fa sul nero arrivano i migranti, l'economia italiana a volte funziona sul nero perché c'è una pressione fiscale devastante, con la quale noi paghiamo anche le organizzazioni umanitarie.